Il reparto operativo del comando provinciale dell'Aquila, comandato dal tenente colonnello Andrea Ronchei e collaborato dai comandi territoriali delle province interessate, ha dato corso oggi a 10 ordinanze di custodia catelaria ai domiciliari, notificando altri 5 provvedimenti di applicazione del divieto temporaneo ed esercitare l'attività professionale su ordine del GIP Gargarella. I provvedimenti interessano pubblici, funzionari, imprenditori e professionisti, residenti nelle province dell'Aquila, Terramo, Pesaro, Urbino e Bari, ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di concorso in corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. L'indagine è stata avviata nel 2016 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, coordinata dal procuratore capo Michele Renzo e condotta dal PM Picardi della Procura dell'Aquila, ha riguardato complessivamente 35 soggetti e ha messo in luce una serie di condotte poste in essere da alcuni funzionari pubblici inseriti nel contesto del segretariato regionale del MIBACT, che ricoprendo varie funzioni e ruoli nel contesto dell'assegnazione e controllo sulle opere di restauro successive al terremoto del 2009, avrebbero gestito gli appalti in maniera clientelare, attribuendo incarichi professionali a parenti ed amici. Secondo quanto ipotizzato dai carabinieri, alcune ditte si sarebbero garantite l'assegnazione di gare d'appalto con ribassi particolarmente cospicui, ottenendo successivamente il recupero attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera. Il compenso per i funzionari si sarebbe concretizzato, secondo le ricostruzioni dei fatti, attraverso l'affidamento di incarichi professionali a parenti e amici. Per taluni procedimenti sarebbe stata infatti accertata sia la rotturbativa della gara per l'assegnazione dei lavori, sia il relativo pagamento di somme da parte dell'imprenditore al funzionario compiacente, quale corrispettivo per il buon fine dell'accordo. Complessivamente poste sotto osservazione dei carabinieri, le procedure relative all'assegnazione ed esecuzione di 12 opere di restauro di altrettanti edifici di interesse storico-culturale. Di rilievo la procedura inerente alle opere di recupero e restauro del teatro comunale dell'Aquila. C'è anche l'ex segretario generale del Ministero dei Beni Culturali d'Abruzzo, Berardino Di Vincenzo, architettora in pensione, tra i 10 indagati finite domiciliari nell'ambito di questa inchiesta sulla ricostruzione pubblica post-terremoto, è quanto emerge da fonti investigative. Le indagini quindi toccano appalti pubblici gestiti dagli uffici regionali del MIBACT. Sono una quindicina le commesse pubbliche che sono finite in realtà ad oggi all'attenzione degli investigatori. Con Di Vincenzo sarebbe indagato anche il figlio Giancarlo, architetto, che tra i 5 che hanno ricevuto la misura cautelare del divieto temporaneo ed esercitare l'attività professionale. I due in realtà sono stati già indagati lo scorso febbraio nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti della regione Abruzzo, in particolare per il filone della ricostruzione post-sisma di Palazzo Centi, sede della Presidenza della Giunta nel centro storico aquilano.